Amici di Autoocasioni, oggi si torna a parlare di risparmio sulle quattro ruote e da svolta si risparmia notevolmente senza rinunciare alla qualità e al servizio. Ci troviamo a Torino, in via Druento 9, in compagnia di Rino Giarrizzo, che ci indica come raggiungere l'ubicazione. Ciao, bentrovato. Ciao, ciao a tutti. Siamo a Torino, in via Druento 9, zona Juventus Stadium. Per chi viene da fuori Torino, siamo all'uscita a Venaria, Juventus Stadium, proseguite a destra verso Torino, primo semaforo a sinistra, proseguite per circa un chilometro, ci trovate sulla vostra destra. Bene, via Druento 9 è una nuova sede, ricordiamo che è svolta un'azienda storica, in grado di fornirmi l'usato d'eccellenza, le chilometri zero, le aziendali, un nuovo e ampio showroom con usato e chilometri certificati, un usato che si può anche provare. Assolutamente, venite tranquillamente, chiedeteci la prova, siamo ben dieti di offrirvela. Abbiamo usato, abbiamo chilometri zero, autovetture nuove, qualsiasi cosa voi non troviate, chiedetecela che noi ci adopereremo per trovarvela. Ecco, non solo vendita ma anche servizio, tra cui finanziamenti personalizzati, leasing in sede, polizze, furto, incendio, garanzia europea dai 12 ai 24 mesi. Sicuramente Rino ha preparato per voi una scaletta molto interessante, è ora di concretizzare la puntata con gli esempi firmati svolta. State con noi. Partiamo con una splendida Opel Meriva 1.6 Cosmo. Anno 2006, la macchina è dotata di impianto GPL, climatizzatore, cerchi in lega e ABS. Il suo prezzo è 3.900 euro. E continuiamo con una splendida Fiat Bravo 1.6 Multijet, 120 cavalli nell'allestimento Dynamic. Anno 2011, climatizzatore, ABS, cerchi in lega a euro 8.400. E direi quasi introvabile nel mercato dell'usato, una splendida Volkswagen Polo Cross 1.4 80 cavalli. Il suo anno è 2007. La vettura ha il climatizzatore, ABS e cerchi in lega e il suo prezzo è di soli 5.900 euro. E adesso passiamo a due vetture ideali per il periodo delle vacanze. Volkswagen passa 1.9 turbodiesel nell'allestimento Comfortline. Anno 2007, la vettura è dotata di ABS, climatizzatore e cruise control. Il suo prezzo è di soli 8.400 euro. E continuiamo con uno splendido Citroen Berlingo 1.6 HDI. Il suo anno è 2010. L'autovettura è dotata di idroguida, ABS e climatizzatore e il suo prezzo è solo 9.400 euro. Vi ricordo che su tutte le nostre autovetture è possibile avere fino a 24 mesi di garanzia europea. Ed ora una splendida Lancia Delta 1.6 Multijet nell'allestimento Argento, 120 cavalli. Il suo anno è 2010 e il suo prezzo è solo 9.900 euro. Opel Zaffera 2.000 turbodiesel Elegance, anno 2004. Il suo prezzo è solo 4.900 euro. Vi ricordo che tutte le nostre vetture sono interamente finanziabili. Sportivissima Fiat Panda 100 cavalli, anno 2006. ABS e climatizzatore, cerchi in lega, soli 4.900 euro. Economica Fiat 600-1.100 nell'allestimento Active, anno 2007, 44.000 chilometri, 2.700 euro. E per gli amanti del fuoristada, uno splendido Tata Safari 3.000 TDI, 7 posti, anno 2006. ABS e cerchi in lega, climatizzatore e autoradio. Il suo optional, il prezzo è 4.900 euro per una vettura in splendide condizioni. E chiudiamo con una vettura appena ritirata, Peugeot 206 1.400, il suo anno è il 2002 e il suo prezzo è 2.400 euro. Molto bene, da svolta i fatti contano più delle parole. Allora, se volete dare una svolta ai vostri acquisti, passate in via Druento 9 a Torino. E se non avete visto l'auto che state cercando nel ricco parco auto presente, chiedetela. Assolutamente sì. Se in questa trasmissione non avete trovato l'usato che fa per voi, chiedetecelo tranquillamente, faremo di tutto per trovarvelo. Svolta apprezza tutti i vostri suggerimenti per migliorare il servizio e allora doverosamente ricordiamo l'indirizzo. Via Druento 9, Torino, zona Juventus Stadium. Bene, io ringrazio Rino Giarizzo per l'ospitalità, ringrazio voi per averci seguito e come sempre linea alla regia.